Guardate qui, siamo di fronte a una chicca anche qua, una opera meravigliosa di un artista che fa parte della transavanguardia, della transavanguardia che quel movimento che Achille Bonito Liva ha definito attraverso i suoi scritti, attraverso le sue tesi e che insieme all'arte povera e al futurismo è l'unico movimento italiano, appunto insieme al futurismo e all'arte povera, che è diventato movimento internazionale. Stiamo parlando di Enzo Cucchi, Enzo Cucchi che con De Maria, del quale abbiamo un'opera in questa puntata, con Francesco Clemente, con Sandro Chia, con Mimmo Paladino, appunto costituiscono gli artisti principali del movimento della transavanguardia e questo è importantissimo dirlo. Ripetiamo, stiamo parlando di un artista importante, fondamentale nella transavanguardia che oramai è riconosciuto a livello internazionale, che sta oramai da anni avendo importanti collaborazioni anche con architetti importantissimi tipo Sozzas per esempio e sicuramente Cucchi, un personaggio che tutti abbiamo imparato ad apprezzare, veramente questa persona che rappresenta l'essenzialità dell'artista, perso nel suo mondo anche durante le interviste, quando è a contatto col pubblico, lui sta perseguendo i suoi percorsi interiori artistici meravigliosi, un personaggio che non possiamo non amare assolutamente. E poi un artista che è uno dei più importanti disegnatori di questa epoca, è un disegnatore, rapporti con poeti, con scrittori, uomini di cultura, pittura, scultura, insomma un artista tutto tondo ma direi un essere umano come si dice con la scatola cranica aperta a 360 gradi e quindi una continua crocevia di emozioni, sensazioni, di interessi e di stimoli, stimoli culturali e artistici. E giustamente Enzo Cucchi è un artista tenuto in grande considerazione in tutti i circoli artistici e dai collezionisti e dalle gallerie e nelle aste. Andiamo subito a dare i dati di questa chicca, è un senza titolo, carboncino su carta formato 22,3 per 30 di base, l'opera è firmata al retro a matita, c'è una simpatica finestrella che si apre nel cartoncino e si apre per far vedere la sua firma, c'è l'autentica dell'artista su fotografia in data anno 2008. Allora qui abbiamo una base d'asta molto molto accessibile, molto positiva, soltanto 5 mila euro con una stima serena, tranquilla, assolutamente per difetto che varia tra i 7 mila e i 9 mila minimo massimo. Quindi una grande facilitazione che vi stiamo dando per entrare in contatto o in possesso di un'opera di un artista affermatissimo e che nel futuro ha assolutamente previsioni di crescita continua e vi stiamo dando questa opportunità qui a Casa d'Aste Sant'Agostino a soltanto 5 mila euro di base d'asta per un'opera assolutamente autentica come tutte quelle che noi portiamo alla vostra attenzione, perché il rispetto per le opere d'arte, il rispetto per gli artisti e il rispetto per voi, per voi cari amiche e cari amici che ci state guardando è assoluto e soltanto Casa d'Aste Sant'Agostino risponde a tempo indeterminato appunto dell'assoluta autenticità delle opere. Grande Enzo Cucchi, lasciamolo e spostiamoci a un'altra grande opera. Grazie